ciao a tutti ragazzi sono ryuzenka oggi finalmente ho deciso di fare un nuovo video visto che un sacco di tempo non carico nulla sul canale quindi ho pensato di fare una missione di front mission 2 remake che è un po che aspettavo il titolo che ovviamente è uscito da un po però giustamente ancora non ho avuto il tempo di giocarlo quindi abbiamo fatto un po di personaggi questa è una missione piuttosto avanzata quindi i nostri personaggi sono un po alti di livello per il momento abbiamo questi quattro personaggi ma ne abbiamo altri in un'altra sessione che ovviamente più avanti avremo un bel party quindi ci sono altri personaggi da vedere direi di cominciare subito la missione perché qui c'è un sacca gente che va benata quindi direi di piscitarli subito subito come l'uva passa allora ovviamente è un titolo strategico coi robottoni per chi piace la saga ovviamente c'è un bel titolino da chi stai a sparare a così non si sparano senza perché i nostri elicotteri proprio chiamosela tutti con lui va bene troppo tocca a lui eh chi li fa male rega misce eh vedi già sta piagno questo se ti hanno sparato una volta solo e già sta fa c'è questa moina inutile elicotteri si saluta intanto non era mio quanto sparano sti cannoni mi sa che il fantastico aiuto di questi elicotteri non ci sarà molto d'aiuto perché si tireranno giù prima del tempo assolutamente sì un cararmatino in croce un altro cararmatino salutate le elicotteri se ne va e se ne va è infiericcio e va bene così ah ebbene questi mi hanno visto eh ovviamente se mi avete visto mi volete pure allora mamma mia non lo pio devo avvicinare per forza diciamo corbian non lo pia ah già alla panino a tonno perché non lo pio fammi capire ah perché non ci abbiamo ok ho capito tutto meglio mettili per sguincio così perché sennò io non ho la prospettiva non capisco e infierisce sul povero van il suo cararmato ragnetto brutto non si può guardare e sta scappando perché no gli va addosso ah addirittura critico eh esagerato eh venn c'hai un niente da fare che mi piecchia te la comporre l'elicottero che schiva e grandi elicotteri che schivano e si schiva ma schiverà quanto non lo so ma sta poco ah c'è ciccio ciccio capitano poi come ti chiami capitano e quei baffetti che ispirano a un certo tipo di individuo che non voglio menzionare quindi lasciamo perdere però vabbè c'hai baffetti l'elicottero ci saluta non ci saluta ancora ci saluta dopo e l'elicottero si arrabbia si arrabbia l'elicottero e distrugge un cararmato grandi elicotteri che fanno il suo poco però lo fanno l'elicottero ci saluta stavolta davvero morto l'elicottero c'hai elicottero è un elicottero che esplode a tempo è esploso l'elicottero ci saluta davvero qui tocca parà perché non sto in linea che direi missili cordia impara e para mio amico cordia impara e li devi parare l'altra volta ci dispiace tocca a te devi parare e te va e para oh che sei venuto a fa ah sei venuto a pialle si si ci pensa elicottero si cicciottino tiè 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 si spicci tiè finta doppio attacco grande elicottero vai che roba c'è ancora e si distrugge il robottino di me vai col robottino stupido si distrugge paro paro abbiamo dimostrato che l'elicottero ce ce pia sempre e guadagna una fantastica skill da aggiungere alla nostra lista è che nell'altro che arriva e pure quest'altro pia i pizze e schiverà boh ah questo cos'è cararmato più strano mai coperto cararmato a punta che cararmato è ecco e rischiva ecco deve schivare fortunatamente ha schivato non c'è segrete meglio The Matrix c'è segrete è una cosa molto molto interessante oh ci abbiamo il zio Ryuzenka il zio Ryuzenka ci deve dare una mano ma ce la farà esatto e no perché io qui non ho prospettiva infatti non ci arrivo a prenderlo mi devo spostare per forza e non lo pio spostiamo avanti tanto non servo a niente allora amico amico cordian e allora ti tira fuori il lanciafiamme ben cotto mi raccomando è un critico grande se si cuoce si cuoce bene questo robottino ben cotto non l'abbiamo distrutto ma era ben cotto io direi di attaccare non quello davanti che non c'entrega nulla vai con un po' dei mischiloni freschi freschi e non distruggiamo il carro armato brutto fatto male ma da come cavolo è com'è sta cosa attacca Morizzo vai Morizzo altri due missile Morizzo infierisce aiee tutti che elettra ce l'avete per cura finita il prossimo turno se no perdo l'arto oh tocca a me vabbè che spicci ci stanno e che ricarie ho due spicci intanto beccato in critico altri due spicci e beh direi è partito un braccio amici e ancora si spara ancora amici e va giù oh un bel po' dei livelli ho power ho preso pure un livello di posizione migliore nuova abilità da aggiungere dai tutti che elettra ce l'avete che pizza ancora questi cari armati brutti aiee fette niente eh ce l'avete proprio che elettra va proprio tutte tupizzette al pomidoro non siamo ancora in tempo ok ok io direi di vedete dove stiamo andando ecco andiamo da qua attacca andiamo giù forte è chiaro niente c'è un 3 solo 2 e paro ovviamente quella parata ci sta tutta grande parata ah critico livello 2 mica Mario scatto 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 meglio scatto mira le gambe è inutile cioè le gambe non servono a nulla allora abbiamo il nostro cordian oggetto vi direte muovemi perché sicuramente non sono in linea adesso posso attaccare con lancia fiamme no mi devi prendere quest'altro grazie ben conto eh grande molto conto allora oggetti usa rinascita 2 su di me e mettiamo il braccio rotto qui spostiamo avanti attacca con Morizzo vai Morizzo armato brutto ci saluta niente ci piaceva proprio a 1 ne ti a 1 vabbè tanto non ho mai preso sti calchi e si salta ok io direte accostarmi qua posso posso spostarmi e muove e fa pure sì che posso usare l'oggetto mentre mi sposto quindi rinascita su di me e ce lo facciamo sulle gambe e torniamo belli carucci roba inutile bella achievement si muovono eh allora io direi che mi sposto qua a destra che è la meglio cosa poi attacchiamo subito vai con scatto interessante però solo quello ho fatto blocco e blocco grande grande blocco ok mi raccomando ben cotto io eh cocevo bene mi raccomando che poi lo mangiamo domani questo qua e poi devi coce un po' di più dai corri ah ok ancora questo corpo ai gambe vabbè corpo ai gambe io attaccherei ok grandissimo lancia missili qui hai listito missili in bocca e si salta ok c'è un morizzo vai morizzo c'è la pieno con morizzo è bravo morizzo oh sta pieno con morizzo eh io direi un crecchettino glielo diamo dai si 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 taglialo un crecchettino morì boom ecco il crecchettino ti è ok allora io mi butto direttamente sul mio amico baffo e il baffo ci piace vai baffo stai pronto stai pronto ma prato che ha pistola a freccette posizione migliore 2 finta fortuna non è male levo finta tanto tutte le cose che levate potete rimettere perché c'è sta la lista di due abilità che non avete usato che avete messo nel deposito quindi tutto apposto allora dove ero rimasto ci siamo il mio amico Coritan un bel giretto di peppe tacca il mio lancia fiamme andiamo ben cotto cottissimo oh perfetto vai con la cottura continua oh fritto dorato mi sposto fine facciamo il mio amico morizzo 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 lo mettiamo di qua vai col bombaster dai l'ana cricchettata pure a questo eh cosa davvero pieta è sto cazzotto un boke boom oh bravo bene stavolta mi è preso contento signor capitano arrivederci signor capitano hasta luego salutate il capitano vedete quanto è bello il capitano no pare staglia e olio più che olio olione perché almeno olio faceva ride lui un po' meno chissà quale staglio però vieni assaltatore addirittura inizio che ermetto militare si è una assalta capito assalta certi piatti di pasta che tu dica va 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 a mangiare che pausa pranzo è rimasto sull'amico van vieni che ti sto aspettando vieni vieni intanto uso un po' di oggettistica su di me che mi manca il torso a posto il mio amico morizzo spostiamo morizzo anzi non morizzo posso spostarlo qua e uso gli oggetti direttamente sotto il zen braccio perfetto stiamo tutti carucci tutti belli pettinati venga 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 tutti i capelli impomatati che te lo dico a fa che fai non vieni vengo io tranquillo non ti sta preoccupa ci abbiamo da cuocere un sacco di bistec qui alla griglia sposto dietro perché c'è i missili morizzo lo sposto iron grande morizzo niente van si è imbambolato sogna fresca in salatina e van la sogna fresca in salatina finiti i corpi non importa ne abbiamo due di mitragliatori che abbia si spicci a livello e non finisce qua si muore addio van van ci saluta ragazzi un bel po' dei picci pure il bonus abbiamo preso che vuoi di più tale finisce cura la pastoviglia come si dice eh si lo so oh ho capito mi fai scendere oh che pizza allora solo qua posso andare solo qua posso andare oh questo c'è il fruttarolo che c'è vieni due mele un cocomero e c'è l'arco cocomero 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 quadrato lo volemo però cocomeri quadrati comunque il gioco è completamente italiano io adesso sono andato un po' per le spicce quindi non mi sono manco fermato sui dialoghi perché tanto questa è la seconda run che ce faccio quindi la prima l'ho fatta su quello vecchio perché ce l'ho ancora quello vecchio ce l'ho addirittura su a console quindi solo che è uscito pure questo dici che fai c'è remake non lo compri e io invece lo compro andiamo al bar vediamo un po' vanno con barista ah c'è baffettino ah c'è pure jennifer ma lopez no posso scherzare colossero non mi pare il caso io devi salvare la partita salviamo la partita partita salvata ok allora ragazzi ho deciso che concludiamo qui il nostro bel video spero che il video vi sia piaciuto spero che vi abbia intrattenuto dopo un sacco di tempo che non facevo un video quindi speriamo che questo video vi piaccia passate anche un po' il tempo e fate due risate ragazzi io vi saluto un saluto da riuzenka noi ci vediamo al prossimo video quando riuscirò a caricarne un altro perché purtroppo il lavoro mi impedisce di fare qualsiasi cosa quindi ci vediamo in caso alla prossima ciao